Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a completare un altro Sacrario. Il Sacrario in questione è quello di Nocon Ya, che ci darà il potere reverto. E qui dovremo imparare ad utilizzarlo, per cui partiamo, vi faccio vedere nel caso abbiate delle difficoltà. Sono abbastanza semplici questi primi Sacrari, però eventualmente se qualcuno ha difficoltà, noi per completezza vi portiamo comunque tutto. Vi ricordo che sul canale trovate la playlist con tutte le altre guide relative a Zelda, ci sono anche altri titoli ovviamente, per cui dategli un'occhiata. Ferma, poi, proprio qua, e però, scusate, ogni tanto ho messo i tasti con una banana. E dicevo, sul canale trovate tutto, ci sono già diverse guide, anche di fasi un pochino più avanzate del gioco, per cui dategli un'occhiata. Qui andiamo a recuperare una chest, che io ovviamente ho già recuperato. Qui andiamo a riavvolgere così. E possiamo arrivare alla fine del nostro dungeon, del nostro Sacrario. Detto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere e lasciare like. Grazie mille e alla prossima!